È la vigilia del grande giorno e dopo l'allenamento gli ungheresi allentano la tensione giocando a cazzo. A pochi chilometri dal ritiro Maggiaro c'è il raduno azzurro. L'allenatore Fosso distribuisce la posta. Neatta il capitano. Viola il grande centravanti. L'unico allenamento degli italiani è una passeggiata nella foresta di Saint Germain perché è meglio riposarsi in vista della finale. È la resa dei conti. Dopo i giochi olimpici del 24 lo stadio di Colombo non ha mai ospitato un evento così importante. La gente appolla gli spazi molto prima del fischio d'inizio previsto per le 5. Allo stadio arriva l'arbitro, il francese Capudil, seguito a ruota dalla squadra italiana. La truppa azzurra sembra sicura di sé. Poco dopo anche la nazionale inglese raggiunge lo stadio olimpico. I Maggiari sembrano tesi, forse perché hanno dovuto modificare la formazione. I pilastri di questi mondiali sono Jean Rimet, presidente della federazione francese della FIFA e Henri Dalunet, segretario generale della federazione francese. Arriva il presidente della Repubblica. Le due squadre si schierano davanti alla tribuna. Ecco quella ungherese. Con il portiere del Sapo e il centravanti Sarosi. Ed ecco gli azzurri con la mezzala destra a Meazza. Il centro mediano Andreolo. Il centravanti Piola. Il terzino destro Rava. E il portiere Olivieri. Il generale Baccaro presenta i giocatori azzurri al presidente della Repubblica. Dopo, il capo di Stato stringe la mano agli ungheresi. In mezzo al capitano Magiaro Sarosi e a quello azzurro Meazza, l'arbitro Capdeville si appresta a sorteggiare i campi con la moneta. Si attende il fischio di inizio. Gli italiani partono l'attacco e fanno la partita, mentre gli ungheresi sembrano contratti. Per battere i loro avversari, oggi dovranno impegnarsi a fondo. Gli abati crossa dalla destra. E l'ala sinistra con la Ussi calcia di prima intenzione, sognando un bei golla. Dopo appena sei minuti, i giocatori sono già in vantaggio. La rete dà una scossa agli ungheresi, che reagiscono e costringono i loro avversari a ripiegare in difesa della propria porta. Sarosi cerca spazio, ma Andreolo lo ferma. Sengeler tira verso la porta. La palla arriva all'ala sinistra, Fittos, che la mette giù e segna, ristabilendo il risultato di parecà. 1-1. Il sospetto è che gli italiani non siano in grande giornata. Invece reagiscono subito al gol, con azioni rapide e incisive. Agirano i difensori ungheresi, passandosi la palla a ripetizione. Measco prepara il tiro, ma poi serve Chiola, che segna un gran gol. Gli azzurri raccogliono i frutti della loro superiorità e il pubblico applaude lo spettacolo. L'ala sinistra con la usti segna un'altra rete. Il primo tempo si chiude sul 3-1. Nella ripresa, gli italiani abbassano il ritmo e gli ungheresi ne approfittano per prendere in mano il gioco. Ovidieri ha il suo da fare per difendere la porta azzurra. L'undici di Pozzo risponde con rapidi contropiedi. Al termine di una lunga azione, il centroavanti Sarosi realizza il secondo gol Maggiaro. Chiola raccoglie un passaggio dalla destra e segna il 4-2. Vittorio Pozzo esulta. A pochi minuti dalla fine la sua squadra ha la vittoria in tasca. Arriva il fischia finale. Italia batte Ungheria 4-2. Gli azzurri vedono premiate le loro fatiche e vincono la toppa del mondo per la seconda.